Vi hanno spiegato cos'è l'economia circolare. L'economia circolare è quell'economia dove non si butta niente, dove lo scarto non esiste. Beh, la filosofia di Mercatopoli è proprio questa. Gli oggetti possono tornare a nuova vita. Quello che non serve a me può diventare utile per un'altra persona, può piacere a qualcun altro. E allora lo porto qui, lo vendo, lo scambio e qualcun altro continuerà a farlo vivere per me. Un po' come guardarsi allo specchio e non finire mai di scoprire qualcosa di se stessi. Il Mercatopoli di Reggio Emilia Kennedy di Umberto Zara è un altro modo di rappresentare la struttura di Mercatopoli con il suo carattere e la sua identità. Per esempio, lui ci tiene tanto all'ordine e ai colori. Mi presento, sono Umberto Zara e conduco in Mercatopoli Reggio Emilia Kennedy, situato in via Brigata Reggio 24, di fronte al parco Il Carrozzone perché conosce la zona. Mercatopoli Reggio Emilia Kennedy esiste da sei anni e mezzo, ha avuto un po' nel corso degli anni qualche cambiamento. L'ultimo è stato quello di ridipingere un po' tutto quanto il negozio. Una categoria dove puntiamo tantissimo è appunto l'arridamento, arridamento interno, esterno, tutto quello che riguarda la casa. Ogni Mercatopoli, anche questo di Reggio Emilia Kennedy, ha il suo carattere, la sua personalità. Beh, qui dentro si può entrare, si cerca magari un vestito, si cerca per esempio un mobile, si guarda la poltrona di un barbiere che come è finita qui, però magari scopriamo che quel particolare oggetto ci sta bene addosso o sta bene nella nostra casa e allora diventa un viaggio di scoperta che di settimana in settimana perché ci sono arrivi continui cambia, a volte anche di giorno in giorno e allora vieni qui magari il giovedì o il mercoledì perché si fa l'aperitivo e scopri cose nuove che non sapevi di volere ma che quando le vedi non puoi resistere. Noi puntiamo soprattutto prevalentemente sull'abbigliamento, abbigliamento, bolse, scarpe. Da sei anni che vendiamo tantissimo abbigliamento, i clienti sono contenti di questo nostro ritiro, della nostra selezione e vengono dentro al negozio a cercare l'abbigliamento firmato o non firmato in buone e in ottime condizioni. Magari questo è il divano dei vostri sogni, un poco coloso, bordolo, l'avete cercato per tanto tempo e non l'avete mai trovato. Ecco, io se abitassi qui vicino al Mercatopoli di Reggio Emilia Kennedy me lo prenderei subito, lo dico davvero. Purtroppo abito a Roma, dovrò fare in un altro modo. Però se abitate qui nelle vicinanze o poco distante, beh, vale la pena di venirlo a provare. E chissà, magari passarci un po' di tempo insieme a casa vostra. Io vi aspetterei tanto volentieri qua da noi per presentarvi il mio Mercatopoli. Anche il mercoledì, perché il mercoledì è una giornata particolare, che facciamo l'aperitivo. Ci potete seguire su Facebook, ci potete seguire su Internet con la nostra vetrina. Vi aspetto numerosi, vi aspetto tanto.